signori abbiamo la maschera degna dell'impostore insieme a shampoo ma vi avviso raga perché se è shampoo che mi ruberà le kill e zektor vi dico subito che ha già ho visto una che andava dentro la botola e non ho visto il colore era nella botola di corridoio navigation ed era davanti nel cadavere la botola botola corridoio navigation esatto quella quella che c'è capito quello che si vede dalle cam bravissimo ok allora sono stato un idiota io io posso confermare c'è per per questa kill quindi non vuol dire che non è lui per questa kill non è leo invece per questa che posso scagionare da che resta chiro perdona mieze tu mi hai incontrato che andavo verso security però non mi scaggioni e no non ti scaggiono perché io non so dove è morto il corpo navigation navigation nella parte opposta no tu beh io metto la mano sul fuoco so che non è leo a questa non perché ha fatto mai in stile di castrata con me capito è sceso ha fatto credo di caffetteria è sceso giù da security e l'elettrica con me però ascoltate questo dettaglio qua il fatto che lui ha preso la botola 100 100 che lui ha preso la botola l'ho visto in pieno non ho visto il colore perché si è chiusa al momento io praticamente ho visto la zona buia e se fosse un self report quindi attenzione potrebbe portare a storage con la botola lì si ai 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 c'è un sospettino ma per il momento io schippo da nino hai morto ok shampoo fatto un'ottima kill su bruno adesso il prossimo che se ne deve andare è sicuramente zector perché quello che ha dei sospetti quindi avendo dei sospetti noi dobbiamo concluderlo anzi sapete che vi dico io quasi proverei a farmelo amico proviamo ragazzi non so cosa sta succedendo in questa partita dove è zè a cazzi ero mutato scusate mi sentite si vai tranquillo ho trovato il corpo di leo in security security ma sa chi hanno è morto pure sa chi io sa chi l'ultima volta che l'ho visto ragazzi non so se può interessare rene electrical e poi ti ricordi dove è andato no perché io poi sono andato via io l'ho preso da storage quindi io io non ha senso che dico questa frase perché effettivamente come dire sono stato io ucciderlo a meno male che te ne sei accorto però non ha senso non l'ho ucciso io ok allora io posso posso dire che tec era fermo al tavolo e c'era ero con ciccio infatti tec non sta parlando mai non capisco se è con noi o non è con noi ci sono ci sono sono qui di solito sei molto più più euforico ma ma perché ho scoperto che se mi faccio si meno sono mi rompe pioni bravo il cadavere non mi ricordo l'ho appena detto era in security non mi ricordo dove l'hai ucciso du maledetto questa è alta a scuola d'uberanza comunque telecamera quello che hanno cliccato poi non lo so da che era in storage non lo so se non ho visto nessuno giro legato andando verso caffetteria caffetteria poi è suonato comunque io ho un sospetto su dacr per ora beh raga se volete votarmi se volete votarmi votatemi così almeno faccio l'altro occhi aperti perché mi sa che sono ancora due impostori eh si è morto nino è morto e sa che è morto quindi sono ancora due impostori facciamo facciamo le tasche raga non c'entriamo ci perfetto raga abbiamo eze dalla nostra parte e adesso mi faccio amico anche ninja vieni ninja ninja vieni no ninja da zarda eh ninja oddio pensavo che ninja andava a premere porca vacca facciamoci amico anche tech no tech non mi dire che vai a premere facciamo amico anche tech tech no non mi dire tech che sei andato a premere porca vacca porca di quella vacca stavamo per far finire la partita allora raga sono tutti i miei amici sono tutti i miei amici eze e ninja adesso mi sono fatto in teoria amico anche tech mi manca d'hacker ora se muore d'hacker di sicuro loro daranno la colpa shampoo perché è l'unico che non si è fatto vedere eccolo no ok raga qua è da votare però perché direi che una doppia e perdiamo tu beh allora ragazzi ho trovato il cadavere in electrical ehm le porte erano chiuse quindi vi posso garantire al 100% per eze e ninja siamo stati tutto il tempo insieme in in al generatore però una cosa che vi farei notare è appunto che il generatore stava per scadere tech e shampoo erano qui al al generatore tech stava mettendo la mano ma shampoo no perché l'ho messa io la mano ma cosa stai dicendo l'ho messa io no l'ho messa io no l'ho messa io te lo giuro che l'ho messa io vabbò io vi posso dire soltanto che sono safe perché erano con me eze e ninja io ho messo la mano d'hacker dov'era? io ero in ho fatto le quest in navigation perché penso che ci andavaste voi proprio detto onestamente io io non ho non ho io faccio un pisco lo risco lo raschio e voto adesso la cosa perfetta sarebbe se eze e ninja votano shampoo tu eravate te e eze tube e ninja eravamo noi tre noi sempre insieme sempre insieme sempre insieme siamo stati insieme qui al reattore come fai a dire che shampoo non ha messo la mano? perché sono andato io al reattore che mancavano pochi secondi e nessuno stava mettendo la mano e chi ti dice che shampoo era appena arrivato? shampoo non era appena arrivato perché io quando sono arrivato lui era già lì allora ho sospetti per shampoo no aspetta anche ti spiego ero lì da mezz'ora che mettevo la mano tec quando è arrivato era già 10 secondi si ma tec non può essere perché è morto aspetta è sceso verso giù è sceso verso giù ha guardato che io c'ero è salito su e ha messo la mano questo è quello che è successo perché volevo vedere se uno era sotto ma non avrebbe senso che io salvo l'emergency se sono io ma infatti puoi fare fake task vabbè a 3 secondi finisco la partita per voi raga bellissimo quello che è successo la partita più bella della mia vita la partita più bella della mia vita adesso adesso proverò a farmi amico anche d'hacker ninja è con noi provo a farmi amico anche d'hacker ci provo ci provo no andate a fare quell'altro andate a fare l'altro porca miseriaccia ah grande ciccio bravo bravo ti è l'impostore che ha attivato ossigeno per non farmi suonare il bottone c'erava allora io ninja e tube eravamo insieme quindi siamo safe abbiamo trovato ez nell'ossigeno quello vicino a navigation quindi io presumo che sia ciccio l'altro se vai fuori ciccio no 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 vola vola e adesso avete perso avete perso sappiate l'avete perso vai ciccio tutto il giorno ma ciccio no 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 avete perso avete perso avete perso brutti co***i no 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 allora è dhacker allora è dhacker li ha fatti fuori tutti allora è ninja no no come cazzo faccio io ho fatto tutte le tasche mamma mia ragazzi che top che partita top ho vinto senza no ho fatto solo una sola uccisione una sola forse ne ho fatta ok eccoci qua raga è dhacker allora è ninja allora sono ninja e tube sono ninja e tube allora io invece trust trust non so chi è ma per me è dhacker li ha fatti fuori tutti raga abbiamo perso bella raga no e invece no e invece no willy madonna edzi intanto ti fa avanti così secondo me corre e scorre adesso corri ragazzi sincero non so come chiudere sta partita sono sincero adesso non la so chiudere in due qua oh l'altra oh l'altra oh l'altra è finita è finita no shampoo shampoo e tube shampoo e tube lo sapevo raga ogni volta vengo sacrificato io lo sapevo raga raga è stata è stata la partita più bella della mia vita no in realtà ce n'erano 4 di impostori perché anche ninja lo sapeva che bastardi raga è stato meraviglioso eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby that's all that's all